I lavori iniziarono il 15 marzo 1954 su progetto di Francesco Allegra, per concludersi due anni dopo. Esteso su un'area di 7200 metri quadrati, poteva contenere 7500 spettatori seduti e 1500 in piedi. Fu inaugurato il 9 agosto 1956 alla presenza del sindaco Giuseppe Dozza e del presidente del CONI. L'impianto fu fortemente voluto da Dozza poiché i vecchi spazi della sala borsa si rivelarono non più adatti al crescente pubblico delle partite di basket. In onore del sindaco comunista ora prende il suo nome.